Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, in prati d'erba fresca mi fa riposare. Buonasera, guardiamo un attimino il tempo di Pasqua. La prima domenica di Pasqua abbiamo ascoltato i discepoli che vanno al sepolcro, le donne che vanno al sepolcro, le discepoli e non trovano il corpo del Signore. La seconda domenica di Pasqua abbiamo riascoltato un brano di ciò che è accaduto il mattino di Pasqua, ma soprattutto quello che accade otto giorni dopo. Quindi Tommaso, mio Dio, mio Signore, quando incontra Gesù risorto. La terza domenica di Pasqua, a quella appena trascorsa, abbiamo ascoltato il brano di Vangelo dei discepoli di Emos, Gesù che si incontra nella parola e nel pane spezzato, l'incontro con Gesù vivo nella celebrazione eucaristica. Con il passare delle domeniche, con lo svilupparsi del tempo pasquale, l'attenzione della liturgia si sposta. Non più ci parla del Cristo che appare, che è apparso ai primi discepoli e che appare a noi nelle celebrazioni eucaristiche, ma si sposta sulla descrizione di chi è il Signore risorto. Ed ecco che la quarta domenica di Pasqua il Vangelo è quello del Buon Pastore. Ecco perché è stato scelto questo Vangelo. Perché ora non guardiamo più all'evento della risurrezione, ma descriviamo chi è questo Gesù che risorge. Chi è Gesù risorto è il Buon Pastore. Chi siamo noi? Le sue pecorelle. Chi è oggi Gesù per chi ritiene di appartenergli? Il Buon Pastore. Chi siamo noi che gli apparteniamo? Le sue pecorelle. E allora diamo uno sguardo un po' a lui e un po' a noi. Diamo uno sguardo a lui con il Salmo del Buon Pastore. Diamo uno sguardo a noi con il brano di Vangelo che ci parla delle pecore di Gesù. Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. A motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore ancora per lunghi anni. Ora, fratelli, mi invito ad ascoltare. Io semplicemente ripeterò alcune frasi. Vi vedete questo minuto che ci attende come un momento di preghiera. Attraverso il Salmo, ripetendo alcune frasi, leggermente cambiando qualche parola, vi descrivo Gesù risorto. Vi descrivo colui che è per voi oggi, sue pecorelle, Gesù. Chi è e cosa fa? Ecco, entrate in un prima di preghiera. Facciamo ancora il nome del Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con Lui non manco di nulla. Mi fa dormire nella serenità. Mi conduce alla tranquillità. Mi rinfranca, cioè mi consola, mi ridà speranza. Mi guida, mi conduce, affinché non vada per strade che conducono alla morte. Mi protegge, mi nutre, mi disseda. Mi colma con la sua bontà. La sua fedeltà è certa, eterna. E' il mio riposo. E' il mio riposo. Penso che sia più che sufficiente. Questo Salmo veramente ci descrive chi è Gesù risorto per noi. Nella tua condivisione, nel tuo approfondimento, poi, magari condividi quali di queste caratteristiche hai sperimentato personalmente nella tua vita. Ora diamo uno sguardo alla pecorella. Ci diamo uno sguardo a noi. Come si comporta? Come vive? Che caratteristiche ha la pecorella del buon pastore? Il discepolo del Cristo risorto. Ci viene il soccorso e il Vangelo. Ascoltiamo. In verità, in verità, io vi dico. Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, da un lato, è un brigato. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. Quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguirà. Ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ancora una volta, fratelli, ora vi invito a guardarvi dentro mentre io ridico alcune caratteristiche che emergono da questo Vangelo per cogliere ciò che noi siamo, la dignità che abbiamo e magari ciò che ancora dobbiamo diventare per essere a pieno titolo pecorelle del Signore. Anche qui facciamo il nome del Padre. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le pecore ascoltano la sua voce. Inutile dire che qui ascoltare sta per obbedire. Ascoltano con umiltà. Cioè ascoltano e fanno ciò che il buon pastore consiglia. E tu ascolti la voce di Gesù? La senti? Obedisci? Poi il Vangelo specifica, lo seguono. Non vanno davanti loro. È Gesù dietro. Non è Gesù che va dove la pecorella vuole andare. Ma è Gesù che indica la via. Gesù risorto davanti. Un estraneo invece non lo seguiranno. Ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Le pecorelle di Gesù non ascoltano la voce, le voci, che sono in contrasto con quelle di Gesù. Il Vangelo addirittura specifica fuggono via. Perché le voci dei pastori falsi sono suadenti, seducono. Sia dotato Gesù Cristo.